Grazie a tutti Benvenuti al punto, ben ritrovati alla trasmissione di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e allora saluto Maglio Mariotti, consigliere regionale del Partito Democratico e Maria Rossi del nuovo centrodestra, presidente della Commissione Monitoraggio e Vigilanza di Palazzo Cesaroni. Benvenuti allora, la prima domanda è quasi scontata, l'immaginate già, l'analisi del voto politico sia per quanto riguarda gli europei, quindi diciamo un discorso più veloce. A livello nazionale invece ci incentriamo di più su quello regionale, dato che si è votato in comuni molto importanti dell'Umbria, compreso Perugia, Terni, ma anche Foligno, Spoleto e via dicendo. Insomma ci sono state anche delle sorprese. Sentiamo il commento allora di due esponenti importanti, di centrodestra e centrosinistra. Amaglio Mariotti. Beh, insomma, il voto del 25 maggio, il voto europeo, è stato un voto di un grande significato politico, che ha per certi versi rappresentato un'anomalia, questa volta in positivo, dell'Italia in Europa. Cioè un voto che in una situazione nella quale c'è stata una forte avanzata in Europa di forze politiche estremiste, populistiche e comunque anti-europee, in Italia invece è prevalso un voto di responsabilità. Un voto che ha chiesto con nettezza, con coraggio, un cambio delle politiche europee, ma ha continuato a pensare, un voto che ha continuato a far pensare agli italiani che la dimensione europea sia l'unica entro la quale noi possiamo cercare di affrontare i temi del cambiamento, i temi del rilancio, dello sviluppo e della competitività del nostro Paese. Dentro questo voto, quello che è emerso con grande nettezza è stato lo straordinario e per certi versi anche inaspettato successo del Partito Democratico. Sicuramente un successo che è stato favorito e trainato dalla proposta di rinnovamento e di innovazione di Matteo Renzi, è un successo che a mio modo di vedere ci darà forza e capacità di giocare un ruolo da protagonisti in Europa, nel senso di ricercare quel cambiamento delle politiche di rigore che hanno contrassegnato questi anni di azione della Commissione europea e del Parlamento europeo, ma la mia sensazione è che è anche un voto che per certi versi stabilizza e dà garanzie di prospettiva politica anche in Italia. Prima di entrare nel voto regionale, stessa domanda, più che commento sarà sicuramente diverso rispetto a quello di Malo Melotti il suo, Rosi. L'Europa è stato un voto particolare dove gli italiani hanno avuto paura della crescita esponenziale di Grillo del Movimento 5 Stelle, quindi hanno avuto paura e hanno riversato il loro voto per prendere il 41%, ciò che significa che anche una parte del centro-destra è andata a votare di moderati, ha votato per Renzi e questo ha determinato che il popolo italiano, che gli italiani vogliono una stabilità, una stabilità governativa, vogliono una tranquillità, non che si vada a riconnotare in un centro-sinistra. Attenzione, in questo momento Renzi ha un ruolo, oltre che di essere Premier, però c'è un ruolo che governa e quindi in questo momento... Anche questo portare avanti il lavoro insieme a voi del nuovo centro-destra... Ma no, questo invece è andato un po' a sottigliare un po' il ragionamento dell'area del centro-destra. È un voto che è legato soprattutto, a mio avviso, per quello che io leggo, al Movimento 5 Stelle. Non è che hanno fatto, perché hanno visto nella figura di Renzi una figura un pochino più tranquilla rispetto a... E questo è il voto delle europee per tutto quello che stava nello scenario anche europeo, che avevamo i partiti anti-europeisti, l'Epin che, insomma, è prevalza in Francia. Questo è stato un po' un sintomo, che poi ovviamente ha avuto un rispecchio a livello amministrativo completamente diverso. E questo noi lo sappiamo, che l'Europea ha un cammino... Certo, certo, ci vediamo adesso a livello amministrativo. Quindi lei pensa che il voto europeo non rafforza questa intesa tra il nuovo centro-destra e il Partito Democratico a livello governativo? Cioè, quando Renzi dice voteremo nel 2018, lei non è convinta di questo? Ma questo io non lo so se si voterà nel 2018. Io so soltanto che il governo, questo è un governo che è stato voluto anche dall'area di centro-destra per dare una stabilità e per poter fare queste riforme. Le riforme andranno fatte, hanno bisogno di essere fatte immediatamente, non fra cinque anni. E questo noi ci ritroversiamo al governo perché è stato voluto, insomma, è stata fatta una scelta specifica. perché risale al governo Monti. Noi non è che siamo un governo che è nato, c'è stato il governo Monti, poi ci abbiamo avuto i governi Letta. E questo significa che sono dei governi che devono traghettare delle riforme. Per poi andare alle elezioni, ovviamente. Entriamo nel discorso amministrativo. Se la domanda fosse rivolta a chi ha vinto le elezioni amministrative, alla parte politica che ha vinto in Umbria le elezioni amministrative, a chi mi dovrei rivolgere per primo? Chi è che ha vinto? Il Partito Democratico, il centro-destra o il centro-sinistra, la luce dei risultati? Secondo Mariotti, chi ha vinto e chi ha perso in questa tornata elettorale? Allora, un'analisi generale. Cioè quando pesa Perugia e non c'è un modo che è stata conquistata al centro-destra? Sì, però si è votato in Italia. Il PD governava 128 amministrazioni sopra 15 mila abitanti, adesso ne governa 160. 15 capologhi, adesso 20. E ha riconquistato tre regioni, Sicilia, Piemonte e Abruzzo. Questo è il segno generale di come sono andate, quindi delle tendenze, delle dinamiche amministrative in Italia. In Umbria il quadro è più in chiaroscuro per il Partito Democratico. Diciamo che è difficile pensare di poter dire che il Partito Democratico ha vinto nel momento in cui è stato sconfitto a Perugia, nella città capoluogo della regione. È evidente che quel risultato che si è determinato è un risultato che in termini di analisi segna in maniera netta una sconfitta del Partito Democratico che tende in qualche modo anche a far rendere meno fulgide alcuni altri risultati. Penso alla riconquista di Orveto, penso alla riconquista di Gualdo Tadino, alla conferma di Foligno. Quindi è evidente che quel voto su Perugia, la sconfitta su Perugia, la perdita di Perugia, è un elemento che deve essere per noi, per il Partito Democratico, per il centrosinistra, un elemento di grande riflessione. Secondo lei, Mariotti, è una sconfitta il candidato sindaco Boccali o della classe dirigente del partito? E' vero che noi siamo in una fase di personalizzazione della politica e lo stesso meccanismo elettorale con l'elezione diretta in qualche modo accende molti fari sul candidato sindaco, però nella mia cultura politica si perde e si vince insieme. In questo momento su Perugia ha perso il centrosinistra, ha perso il PD, è stata messa in discussione una classe dirigente. E' accaduto quello che fisiologicamente, io speravo che non accadesse, ma che non è una cosa fuori dal mondo. Dopo 70 anni la fisiologia nella democrazia politica è l'alternanza, non è il fatto che si continua a governare solo. Maria Rosi, dopo decine di anni, per la prima volta il centrodestra guida, come diceva prima, Mariotti è la città più importante perché è il capoluogo dell'Umbria, e cioè Perugia. Avete mai pensato di vincere queste elezioni? Ma io devo dire la verità che io ci avevo pensato che era possibile. Ovviamente in una tornata elettorale non è facile, noi abbiamo vinto, abbiamo vinto il rinnovamento, ha vinto la voglia di cambiare, hanno vinto i perugini, che hanno scommesso su qualcosa che volevano dare una Perugia diversa. Volevano una Perugia diversa. È finito, per non dire, usare una parola fallita, un sistema che perdurava da 70 anni. Un modo di pensare, un approccio, un concetto proprio della politica. E questo, bisogna dire, è dato, avuto, che poi l'alternanza, non ci vuole ogni 70 anni, ci vuole un'alternanza. L'alternanza è il sale della democrazia. Per cui chi fa bene deve essere riconfermato, chi fa male deve andare a casa. In maniera molto semplice e molto diretta. Abbiamo vinto, si è vinto il capoluogo e a mio avviso è una delle elezioni più importanti. Anche se abbiamo perso altri comuni, di centro-destra, dove è subentrato il centro-sinistra. Ma questo è nella logica delle elezioni. Che il segnale di Perugia è un segnale molto importante, che si è dato, che se i cittadini credono in un cambiamento, è possibile e si avvera. Io ci credevo, come in ogni tornata elettorale, io credo che è possibile, se uno ha un progetto, se uno ha delle idee, se riesce ad arrivare direttamente ai cittadini. È ovvio, la politica è fatta delle persone, non più il contenitore è un aiuto, ma è fatta delle persone. Se ci sono le persone giuste, che corrono, e che emozionano, e che fanno sognare, che fanno dare una speranza a poter cambiare, è ovvio che vengano poi premiate. Sicuramente al primo turno non si dava al ballottaggio il centrodestra, questo era un po' nello scenario di tutti, perché non era mai accaduto. E si pensava al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle invece si è fermato, non ha avuto questo riconoscimento fino in fondo da parte dei cittadini, perché comunque è un dialogare complesso, un dialogare non facile, e invece i cittadini hanno creduto di andare al ballottaggio col centrodestra. E questo è stato il premio, a mio avviso la fiducia che ci hanno dato, la nostra serietà, la nostra credibilità, perché abbiamo portato avanti un discorso di trasparenza, di meritocrazia, di giovani. Siamo andati, siamo scesi tutti in campo compattico, e sì, certo, con le difficoltà iniziali, ma quelle ci sono ovviamente, in una dialettica politica ci sono, affrontate tutte subito, ma sicuramente, e devo dire, ovviamente essendo stata tra coloro che ha voluto tenere unito il centrodestra, sempre e comunque, abbiamo dimostrato che si può vincere. Ha dedicato la prima parte della trasmissione all'analisi del voto, era anche logico, ci rivediamo con i consiglieri regionali per la prima volta dopo le elezioni amministrative ed europee, anche dopo il ballottaggio. Adesso parliamo invece dell'attività dell'Assemblea Legislativa, cosa che vi riguarda sicuramente più da vicino. Siamo entrati nell'ultimo anno di legislatura, un anno dove sono in programma diverse iniziative, diverse proposte, da portare a compimento dalle riforme tra le quali anche la legge elettorale, con la quale poi il sistema di voto con il quale si voterà nel 2015. Ma ci sono altre priorità, Mariotti? Come verrà impostato quest'ultimo anno di legislatura? Beh, sarà, secondo me, un finale di legislatura molto denso di lavoro. Io penso che anche alla luce delle vicende politiche e dei stessi risultati elettorali, io credo che quest'ultimo anno debba in qualche maniera, sia per chi governa, sia per chi ambisce a poter diventare forza di maggioranza, dovrà segnare non solo il modo con il quale concludiamo la legislatura, ma come si imposta anche la legislatura che verrà a partire dal fatto di affrontare i temi essenziali, quelli prioritari, che in questo momento anche l'Umbria ha davanti, il lavoro, le riforme, l'efficienza della pubblica amministrazione, la sua capacità competitiva. Penso che dentro questo ragionamento la prima priorità sarà quella di definire quanto più rapidamente possibile il nuovo quadro comunitario di sostegno, quindi impostare il modo con il quale noi intendiamo dare priorità e finalizzare i fondi comunitari per i prossimi sett'anni che saranno probabilmente la benzina fondamentale, il propellente per cercare di mettere un po' di sviluppo all'Umbria e invertire la tendenza del ristagno economico. C'è un problema da definire dal punto di vista di riforme programmatiche, un disegno che deve essere completato, penso al piano regionale di trasporti e al piano sanitario regionale, c'è da completare un assetto di riforme endoregionali anche alla luce del disegno di legge del Rio, quindi della soppressione come ente di primo livello della provincia, quindi della ridefinizione di un assetto istituzionale complessivo, regionale e degli enti locali che secondo me deve delineare appunto un modello organizzativo per il futuro. Queste mi sembrano essere le priorità sulle quali dovremmo confincare. in un anno di legislatura poi in meno di un anno perché poi si entra in altri ambiti. Allora Presidente Rosi, trasporti, sanità, piano zootecnico regionale, quindi l'ambiente, riforme istituzionali e strutturali, questo è quanto in sintesi estrema ha tracciato il consigliere di maggioranza. Ecco, diciamo la presenza, il vostro comportamento tra virgolette in questo ultimo anno in previsione, in preparazione delle prossime elezioni sarà molto più come dire fermo, riflessivo, come verranno portati avanti questi passi importanti per l'amministrazione? Questo noi abbiamo sempre dato e fatto un'opposizione costruttiva dove serviva abbiamo dato il nostro sostegno e dove non serviva abbiamo esposto la nostra diciamo di senso di avere in atteggiamenti insomma. Per cui non è stata una posizione morbida anche se ovviamente purtroppo dopo la stampa vuole far passare questo. Chiaro fare l'opposizione non è semplice ma i temi sono fondamentali sono importanti sono questi che sono questi sul tavolo e non possiamo far finta di nulla dobbiamo soltanto vigilare ma controllare ovviamente che i trasporti che tutti i servizi pubblici che noi dobbiamo comunque andare a garantire vengono sempre fatti nella massima trasparenza con l'efficienza l'efficacia e l'economicità ovviamente del servizio saremo ancora più attenti se non lo siamo stati perché fare meglio e fare di più è sempre possibile è ovvio e poi chiaro ci avviciniamo a delle elezioni ovviamente il fatto che abbiamo vinto Perugia che si è vinta che è cambiata l'amministrazione abbiamo vinto Perugia il capoluogo questo ci può dare un piglio diverso una predisposizione insomma perché no ad aspirare o a sospirare o comunque a sognare per diventare come l'abbiamo sempre fatto diventare una forza di governo e perché no che i tempi sono cambiati radicalmente non niente più dato per scontato bisogna mi porta verso una domanda logica chiaramente in regione poi ne parliamo però in regione non c'è il ballottaggio per cui poi con il ballottaggio si rimettono insieme diciamo il centro-destra il centro-sinistra il possibile si fanno accordi ufficiali non ufficiali e via dicendo questo preclude per cui in base a quello che sottolineava lei prima la possibilità di una nuova unione del centro-destra per partecipare alle prossime elezioni ma io me la auguro e l'auspiteria ovviamente lavorerò per come ho sempre fatto che l'unione e la forza del centro-destra deve essere unita se no rischiamo di avere di fare insomma di essere di dimostrarci al pubblico all'elettorato in maniera insomma immatura e frammentata invece abbiamo dato un segnale su Perugia di una grande maturità politica di un progetto politico che uniti si può fare insieme si può vincere e quindi Mariotti la legge elettorale che la regione la commissione statuto ma tutti gli altri organi insomma partecipano a questa diciamo a questo progetto diventa importante diventa importante soprattutto per capire come i piccoli partiti o i piccoli movimenti possano entrare dato che diciamo si può prevedere un livello più o meno alto che decide se entrare o non entrare in consiglio regionale come verrà fuori cioè voi che siete il partito più grande diciamo all'interno dell'assemblea legislativa come porterete avanti questo progetto ma intanto penso che la legge elettorale è un po' un cardine delle regole condivise quindi io penso che a noi come partito ricordiamo scusi che da 30 si passa a 20 consiglieri e questo è appurato e questo è un elemento che rende ancora più complicato costruire un meccanismo di legge elettorale che consenta rappresentanza governabilità che sia in qualche maniera uno strumento di espressione davvero pluralista e democratica di quello che è la complessità dell'Umbra dicevo è un passaggio importante regole che devono essere il più possibile condivise costruite insieme quindi penso che al partito democratico competa anche un po' questa responsabilità cercare di costruire una discussione vera approfondita e cercare il massimo consenso possibile su una regola che è fondamentale che è quella della legge elettorale su alcuni punti penso che ci sia già incamminati su un percorso condiviso il superamento del listino la riproposizione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale adesso si tratta di capire come si curano i dettagli che però in una legge elettorale tanti dettagli non sono quindi soglie di sbarramento che in qualche maniera se si alzano si abbassano possono favorire o precludere la possibilità di rappresentanza soprattutto per le forze elettorali politiche più piccole collegio elettorale se unico collegio regionale o invece più collegi il sistema delle preferenze tenendo conto ripeto che il tutto deve essere inquadrato dentro quella riforma che è già stata fatta e che lei ricordava un consiglio regionale con 20 consiglieri un consiglio regionale che ha bisogno anche di regole che gli consentano di svolgere efficacemente il proprio ruolo legislativo e con 20 consiglieri anche nel gioco maggioranza opposizione diventa tutto un po' più difficile quindi sarà un lavoro politico di responsabilità ma anche di cesello che io penso dovremmo cercare di approntare da subito perché i tempi ormai sono quelli che sono e cercare di chiudere entro la fine dell'anno perché mi sembra essere in qualche maniera impellente il fatto di dare una garanzia su quale è il sistema di voto che ci accompagnerà per le prossime elezioni regionali Maria Rosi quale sistema auspica? Su questo ovviamente io sono per come ho presentato insieme anche alla collega Monacelli e Zaffini collega la lista ovviamente con la doppia preferenza quindi parità di genere sì parità di genere poi dobbiamo discutere anche parlare per quanto riguarda collegio unico o doppio collegio lasciare le due anche se diciamo nello scenario potrebbero rimanere oppure fare un collegio unico sicuramente noi penso che chiediamo e chiederemo ovviamente l'eliminazione del listino perché quello lo trovo e questo mi sembra che sia un accordo e condivisibile questo è un po' l'approccio vediamo il problema è che dobbiamo fare un'elezione cioè dobbiamo fare una legge elettorale che sia anche adeguata ai tempi insomma che guardi un cento destra unito la soglia di sbarramento non mi preoccupa se il cento destra non va unito chiaramente un po' come gli altri partiti della sinistra li cambiano come noi abbiamo all'amministrativa abbiamo la soglia del 4 più o meno e certo la soglia di sbarramento quello è un problema è un problema un dato di fatto un dato oggettivo che potrebbe essere un po' più da soli in un modo e coalizione in un altro però questo per evitare insomma la frantumazione insomma dei vari piccoli partiti anche se la stessa discussione a livello nazionale è ancora avverta perché anche a livello nazionale non abbiamo la legge elettorale per cui anche lì farla uguale fa andare in maniera avere un senso un criterio forse se c'è una cosa che io mi augurerei auspicherei è quello di cercare di trovare un minimo di sintonia fra il disegno di riforma nazionale della legge elettorale e quello delle regioni ma il problema vero è che noi abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un floriregio di regole elettorali anche a livello regionale e non solo a livello regionale per cui alla fine si è un po' disgregata l'idea di una tenuta unitaria dell'assetto istituzionale del paese io naturalmente non penso che il sistema nazionale deve essere to cure ripreso a livello regionale poi un conto sono le grandi regioni un conto sono le piccole però almeno cercare di uniformarsi in un sistema elettorale che su alcuni cardini tenga insieme il sistema elettorale nazionale e quello regionale secondo me ridà coerenza e coevità ad un assetto istituzionale che ha bisogno di recuperare dentro l'autonomia delle regioni ma anche il senso dello stare insieme come nazione ma io penso e condivido il fatto che bisogna ritornare che i cittadini si scelgano i propri rappresentanti anche a livello nazionale che sono per le preferenze non è vero che le preferenze tutte c'è il rovescio della medaglia lo troviamo in qualunque formula anche nelle liste bloccate perché comunque è il partito che sceglie e io ritengo che il partito a volte può scegliere non bene non in maniera giusta e non in merito grazia lei ha iniziato l'allenamento con l'europea ma io ho iniziato l'allenamento è andata anche bene a livello personale non mi pare ho sempre fatto il servizio al partito a prescindere ho sempre dato il mio contributo in maniera diretta o indiretta perché penso che se uno fa parte deve mettere io penso che poi nelle scelte bisogna metterci sempre la faccia nel bene o nel male lei è molto amica del ministro mi risulta il ministro alla salute Beatrice Lorenzin allora come sarà il futuro per la sanità per il sistema sanitario nazionale e quindi e poi nelle regioni il ministro sta portando avanti il patto della salute lo sta definendo e ritengo che ovviamente verrà fatto con degli occhi un pochino nuovi con una visione della sanità in maniera diversa ovviamente ha ridotto e ha evitato i tagli e questo perché sta portando avanti il concetto proprio che attraverso il recupero degli sprechi possono essere devono essere riutilizzati ovviamente lei parlava ha portato e l'ha detto ovviamente e lo dice in qualunque occasione del fatto che chi arriva oltre 70 anni deve avere il diritto di cura e questo è fondamentale per un paese civile e soprattutto le state in America anche per vedere quel sistema sanitario per i farmaci salva vita insomma sta cercando di portare un discorso un pochino più allargato non di una sanità esclusiva insomma Mariotti l'85% delle risorse di bilancio vanno per la sanità quindi è un tema sempre da guardare con grande attenzione eccetera lei lo diceva anche prima sarà una delle priorità in questi ultimi mesi di legislatura penso di sì penso che noi siamo di fronte tra l'altro alla necessità perché il piano sanitario regionale precedente è scaduto è in scadenza e quindi dobbiamo avviarci a un confronto su un piano di programmazione che è fondamentale per quella che è insomma la tenuta del sistema sociale di questa regione dobbiamo da questo punto di vista connettere la riforma che è stata fatta a metà legislatura dentro un quadro di programmazione più vasto e di prospettiva e dobbiamo a mio modo di vedere sia a livello nazionale che a livello regionale come dire concentrare la nostra attenzione su alcuni punti che oggi sono fondamentali e decisivi per la tenuta del nostro sistema sanitario il primo è l'accessibilità un sistema sanitario sostenibilità sostenibilità finanziaria e adeguatezza questi sono i tre cardine tra le quali secondo me dovremmo ragionare sono d'accordo su questo in aggiunta ci metterei che ovviamente la politica deve guardare la meritocrazia il sistema sanitario deve mettere le persone giuste agli operatori all'interno delle strutture noi abbiamo comunque ricordo una sanità insomma che è stata considerata noi i nostri conti sono in noi esatto ma questo è dato soprattutto a dei grandi professionisti che lavorano in silenzio in maniera umile lavorano e danno a questo danno cura insomma ai malati che vengono anche a curarsi la fuori l'unica cosa che bisogna a mio avviso e qui faccio un attimo una precisazione che il pubblico guardi un pochino più il privato ma non come un nemico o come un concorrente ma come colui che potrebbe dargli una mano cioè bisogna parlare privato e pubblico debbano collaborare insieme perché ci sono posti di lavoro perché si dà risposta perché abbiamo una sanità che può venire dalle altre regioni non dobbiamo indurre che i nostri malati vadano a curarsi fuori perché c'è anche questo e bisogna fare in modo che il pubblico e il privato debbano dialogare non siamo più ai tempi voglio dire l'esigenza c'è purtroppo i malati aumentano questo è il dramma abbiamo una regione che è anziana con tutto quello che è legato in conclusione vedete abbiamo 30 secondi quindi la domanda è chiaramente veloce come pure le risposte i risultati torniamo ai risultati delle amministrative i risultati di oggi come potranno se lo potranno fare insomma in che modo sulle prossime elezioni regionali cioè da qui a un anno cosa cambierà nei due schieramenti la risposta chiaramente in 15 secondi è difficilissima è un titolo parliamo per titoli di giornale Mariotti ma diciamo dal mio punto di vista del centro-sinistra i risultati di queste ultime settimane ecco dimostrano che non ci sono più roccaforti nei renditi di posizione che tutto è contendibile e che quindi se il centro-sinistra come io mi auguro vuole riconfermarsi alla guida di questa regione dovrà farlo non dando per scontato che questa è una regione rossa dove tradizionalmente saremo destinati a vincere ma dovremo farlo scegliendo le persone migliori un programma che dia senso di futuro a questa regione Maria Rosi come il vostro lavoro ma è possibile cambiare i cittadini umbri l'hanno testato con le loro mani quindi possono credere che è possibile cambiare e governare anche una regione che è sempre stata rossa e questo con la vittoria di Perugia questo è possibile con un programma ovviamente che guarda che punta soprattutto ai giovani al lavoro a cose insomma concrete che cercano di rilanciare la nostra regione grazie a Maglio Mariotti consigliere regionale del Partito Democratico a Maria Rosi del nuovo centro-destra presidente della commissione monitoraggio e vigilanza di Palazzo Cesaroni grazie a voi per averci seguito l'appuntamento e alla prossima settimana arrivederci